Una donna di 36 anni e un uomo di 57 sono stati arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Termini Merese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Palermo con le accuse di omicidio e soppressione del cadavere di Carlo Domenico La Duca, un agricoltore di Termini Merese. Sono la moglie Luana Cammalleri e il miglior amico della vittima, l'operaio Pietro Ferrara, attraverso le indagini coordinate dalla procura di Palermo con intercettazioni, analisi dei tabulati, analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, l'assunzione di informazioni e acquisizioni informatiche e documentali iniziate sin dalla scomparsa di La Duca il 31 gennaio 2019. Sono emersi gravi indizi nei confronti della moglie e dell'amico che avrebbero avuto una relazione sentimentale clandestina. I due dopo aver pianificato l'omicidio hanno attirato la vittima a Palermo nel terreno di proprietà dell'arrestato e lo hanno ucciso, poi hanno portato la sua autovettura a circa 12 chilometri di distanza dal luogo del delitto per depistare le indagini. Le acquisizioni investigative hanno anche permesso di demolire gli alibi che i due avevano creato nel corso del tempo per tentare di allontanare l'attenzione degli inquirenti. Il corpo dell'agricoltore scomparso non è mai stato trovato.